Applicare questa miscela aiuta a eliminare le vene varicose naturalmente. Le vene varicose spesso causano dolore e ti fanno sentire a disagio e dovrai indossare abiti più lunghi. È importante eliminare le vene varicose il più presto possibile in quanto porteranno a complicazioni più gravi come tromboflebite, insufficienza venosa cronica, un cere varicose. Ci sono molti modi diversi per trattare le vene varicose che vanno dagli interventi chirurgici al trattamento naturale prima di utilizzare alcune creme da prescrizione irritanti o costosi interventi chirurgici laser che non sono sempre efficaci e possono causare effetti collaterali. Utilizzare questo rimedio domestico naturale vi aiuterà a eliminare le vene varicose realmente senza il rischio. Basta applicarlo sulle gambe o su qualsiasi area che appaiano vene varicose e contribuirà notevolmente a diminuire il poling nel sangue delle vene, offrendo anche molti altri effetti come la pelle più chiara e la parte migliore è che questo rimedio non pone alcun rischio ed è molto meno costoso di integrienti chirurgici troppo. Per fare questa miscela hai solo bisogno di due ingredienti. Il primo è il prezzemolo. Esso contiene rutina che svolge un ruolo chiave nel rafforzamento dei capillari e quindi è utile per eliminare le vene varicose in dolore a essi associato. Inoltre, il prezzemolo è ricco di vitamina C. Questo è un potente antiossidante e incoraggia la bruzione di glucene. La vitamina C aiuta nella riparazione e ripruzione delle cellule che aiuta a migliorare l'aspetto delle vene varicose e ti dà gambe più perfette. Hai bisogno di una mancata di prezzemolo fresco circa 60 grammi e tagliagli. Dopo aver tagliato, prendere una casseruola e aggiungere prezzemolo tritato in esso. e aggiungere una casseruola e aggiungere. Mettere questa casseruola sul fornello e cuciere a fuoco grande fino a quando l'acqua bolle. Quindi fa bollire per circa 5 minuti con il calore più basso. Dopo questo tempo toglierlo dal fuoco, coprire e lasciare raffreddare la soluzione a tua vita. Quindi filterare il liquido in una ciotola con un colino. Ora unire questo liquido con olio d'oliva. Massaggiare la pelle con olio d'oliva può aiutare a aumentare la circolazione e ridurre il dolore alle gambe. Poiché l'olio d'oliva viene facilmente assorbito nella pelle, pulisce e fa unisce alla pelle utili acidi grassi omega 3. Inoltre, l'uso regolare di olio d'oliva aumenta il flusso sanguigno nelle vene e migliora la fusione delle vasole venose. Hai solo bisogno di aggiungere 4-5 gocce di olio d'oliva alla ciotola dell'acqua di pressemolo. Quindi mescolare bene questa miscela con un cucchiaio. Mettere questa miscela in frigo per diversi minuti. Quindi utilizzando un battufolo di cotone applicare la miscela alle gambe e alle altre aree interessate delle vene varicose. Massaggiando la pelle con un movimento circolare, battendo dai piedi verso l'alto, premere delicatamente l'area. Questo aumentare la circolazione sanguigna, ridurre l'infiammazione e il dolore. Ripetere questo processo ogni giorno per eliminare le vene varicose rapidamente. E alla fine, se ti piace questo video, tagli un pollice in alto e condividi con i tuoi amici. Se vuoi più ricette e sottolineamenti, iscriviti al canale. Ciao! Ciao! Ciao!